Morto un papa se ne fa un altro. È ironico il sindaco di Maratea Mario Di Trani quando è chiamato a commentare le dimissioni del direttore artistico degli eventi estivi per l'ente lucano Gennaro Colangelo. La rinuncia all'incarico regolato da una convenzione per il triennio 2011-2013 è arrivata negli ultimi giorni. Ho cercato di trattenerlo con noi, ha poi informato il primo cittadino, ma Colangelo ha ritenuto non voler proseguire le sue attività qui a Maratea. Dimissioni che arrivano nel pieno di una stagione estiva spiegato di Trani, ma non siamo impreparati, ci siamo adoperati con la programmazione del nuovo cartellone che il nostro pubblico a breve potrà conoscere. Il prossimo anno, infine dichiarato il sindaco della città del Cristo, penseremo ad un nuovo professionista che dovrà curare i nostri eventi, un direttore artistico Colangelo spesso contestato a Maratea per il suo operato e per i suoi costi. Insomma un personaggio mai andato giù, ad esempio il comitato Maratea città aperta, lo scorso anno ha promosso una petizione per chiederne la rimozione. A rendere poi più lungo l'elenco degli insoddisfatti anche i consiglieri comunali di minoranza, in particolare Michele Manzi, Francesca Crusco, Domenico Brando, dal gruppo Maratea sempre più bella, sempre più libera. Dall'opposizione più volte in passato hanno espresso il parere negativo sul suo incarico, con segnalazioni e interrogazioni e oggi con le dimissioni lo confermano. La nostra presa di posizione, scrivono, è servita forse a convincere qualcuno a rendere evidente l'inefficace di una tale scelta.